Stupido! Vediamo se ne provo uno Eeeh Non ho fatto un certo Che schifo Oddio Ho finito tutte le munizioni Carica allora C'è ancora uno ma non so dove si è Io ho stra poche munizioni Eeeh di cosa Di tutto Allora aspetta Ops non così Te ne posso dare un po' va No Sono arrivate Sè Ok Tento sotto Ho finito i colpi Che brutto sei E' morto E' morto E' buggatissimo Lo vedi anche te così? Si Sento puzza di stronzi Anch'io Ok Ok Oh sono più di uno Eeeh dio Va bene questo me è arrivato al primo colpo No Non muoiono Ok Non fagli avvicinare a me È un bel casino Ho quasi fatto Ho quasi fatto Ah Ah eri tu deficiente prima Arrivano Ok Dai ne manca Manca l'ultimo l'ultimo Aiuto E' l'ultimo E' l'ultimo Ho fatto ho fatto Mazzato tutti Aiuto Non ci credo Non ho più colpi Vaffanculo Dov'è? E' là sopra Ottimo No No la vomitazza Che schifo Vabbè dobbiamo andare Dove? Di qua Stupido 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 Io ho perso 20 anni di vita Qui si sta distruggendo tutto Eeeh Oddio Eeeh 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 Giusto io ho l'arma nuova Aia! Oh! Cos'è? Mi hai colpito tu Noo non posso farti danno io Ti sei spaventato? Sì Se siamo a corto di munizioni ricordiamoci del modulo cinetico perché cosa fa? Chi è quello? Lo stai vedendo anche tu il video? Sì cosa c'è di lui? Sì è quello che mi sto chiedendo anche io No Fede sale ti prego Sto venendo sto venendo Ah ok se siamo a corto di munizioni dice tipo di staccarli gli arti eeeh Eeeh E usarli così Ecco io è qua che lascerò il mio robottino Proprio In effetti avrei dovuto lasciarlo anche io qua Ah dobbiamo scendere C'è qualcosa di brutto giù la? Quale? Oddio si Non ti muovere Cazzo ottimo Don't out step Ma prima cosa c'era dentro? Io scappa 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 Si sta rigenerando Come farai a liberarla? Non vedrò ti capirai qua Te ne tiro un'altra Devi scappare Non sale Muoviti Non sale Muoviti Non sale Ok l'ho bloccato Arrivo Aiuto Oddio è qui Cinesi Cinesi Telecinesi Telecinesi Corriare 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 Sono qua Via Corriare Dio Se li stacchi gli arti lo rallenti Come bloccata Staccagli gli arti Già fatto Dobbiamo fare un'altra cosa Dobbiamo fare un'altra cosa Ma che cosa? No no bisogna andare per forza di là Strai Strai Ma immelo Si Ah qua Bisogna attivare il modulo Sto facendo Sto di tre Ma Vai vai Allora Non ci credo Finito dei colpi Dobbiamo fare qualcosa Dobbiamo fare qualcosa Cosa dobbiamo fare? Eh Deve arrivare Ce ne sono due Oddio Dobbiamo andare di telecinesi Mi ho finito i colpi È arrivato Spacca Spacca tutto Aiuto Hai telecinese anche me No Scoprimi coprimi Coprimi Sto morendo Tuo canale è stato editato Ahia Entra entra Wow Oh Uh Oh Dio Oh Dio Io Io ho Non ci fa Ho Quattro colpi qui Dio santo Non ho più niente Ops Non ho più niente Capitolo sei Riparazione È ora di usare la nuova arma testiamola Mi piace Ok dai Così può andare Numero 2 Sono io